Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo con la cronaca, omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento ed è così che vengono ora indagati dalla procura della Repubblica di Padova i genitori di Eleonora Bottaro la diciottenne di Bagnoli di sopra, morta di leucemia dopo aver rifiutato la chemioterapia in un comunicato diffuso proprio oggi dalla procura, firma del procuratore capo Matteo Stuccilli si legge che i genitori hanno violato l'obbligo di tutela in sito nella potestà genitoriale da un lato si opponevano alla terapia chemioterapica e osteggiata fin dal primo intervento medico dall'altro avrebbero ingenerato in Eleonora una falsa rappresentazione della realtà sia in ordine della gravità e mortalità della patologia da cui era affetta, lo ricordiamo, leucemia linfoblastica acuta sia con riferimento alla idoneità e adeguatezza curativa soltanto dei rimedi da essi proposti privi tra l'altro di qualsiasi validazione scientifica in tal modo inducevano in Eleonora il falso convincimento che la terapia chemioterapica fosse in realtà non soltanto non necessaria ma addirittura nociva e interferivano in ogni altra scelta medica in maniera pretestuosa affermando di seguire la volontà della figlia la procura, prosegue la nota, è giunta a tale determinazione sulla base di indagini approfondite e questa mattina i carabinieri del nucleo operativo e della radio mobile della compagnia di Piove di Sacco hanno arrestato un 29enne di Brugine in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere è messa nei suoi confronti da parte del GIP del Tribunale di Padova in ragione delle plurime violazioni rilevate il GIP del Tribunale Patavino ha ordinato l'aggravamento della misura in corso disponendo la custodia cautelare in carcere di FZ che è stato quindi arrestato e accompagnato alla casa circondariale Due Palazzi i carabinieri di Piove di Sacco avevano consentito di riscontrare che l'indagato incurante della misura disposta nei suoi confronti si era leso responsabile di reiterate violazioni alle prescrizioni imposte con il provvedimento restrittivo in particolare nel pomeriggio del 19 aprile scorso a Bovolenta i carabinieri lo hanno bloccato in compagnia di un otto tossico dipendente fuori dal comune di residenza mentre si trovava la guida di un furgone pur avendo la patente sospesa e poi il ritrovamento di alcuni grammi di droga si cerca ora il laboratorio della micidiale droga sintetica nelle scorse ore nel corso di un controllo stradale sul raccordo sud al confine con Albignasico i carabinieri hanno fermato un Audi A4 l'auto era condotta da un cinese residente a Padova e l'uomo ha dimostrato eccessivo nervosismo tant'è che i militari insospettiti hanno deciso di procedere alla perquisizione l'operazione ha permesso il rinvenimento di 41 grammi di Chabot una tipologia di droga sintetica molto costosa conosciuta anche come ICE capace di provocare stati di allucinazione, aggressività e depressione e che sta diventando sempre più di tendenza anche qui a Padova in possesso dello straniero sono stati trovati anche un cellulare usato per gestire i contatti per lo spaccio e 815 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita tutto è stato posto sotto sequestro e il cinese è stato accompagnato al carcere due palazzi la Col di Retti Veneto ha rilevato che in alcune aree della nostra regione si è verificato un danno superiore al 30% a carico delle colture frutticole e viticole ma anche per alcune coltivazioni hanno interessato per vari giorni in particolare le zone evocate alle culture specializzate dal Vicentino al Padovano, dal Veronese al Veneziano, nel Trevigiano così come nel Bellunese molte le aziende che sono state colte e impreparate dagli eventi atmosferici improvvisi a loro va rivolta soprattutto l'attenzione affinché si possano ritagliare delle misure di intervento che potrebbero alleviare il bilancio negativo di una situazione anomala per tutte le campagne del territorio è il villaggio barricata di Porto Tolle località turistica nella provincia di Rovigo situata all'interno del parco regionale Veneto del Delta del Po ad aggiudicarsi il titolo di miglior campeggio villaggio Pet Friendly 2017 il riconoscimento annuale dedicato all'accoglienza degli animali domestici in vacanza che appunto viene assegnato durante il solito ambito premio dei certificati di eccellenza Cube Camp vincitore del certificato appunto è il villaggio barricata di Porto Tolle che si è distinto per la qualità dell'accoglienza degli animali domestici ed è risultato il migliore tra 10 top 10 all'interno della quale hanno fatto la loro comparsa strutture di Emilia Romagna, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto ancora uno schianto tra un tir e un auto poco prima delle 7.30 di questa mattina lungo la statale del Santo tra Loreggia e Campo San Piero i vigili del fuoco sono intervenuti per lo scontro tra un auto ed un tir ovviamente ferito un automobilista la bella stagione è arrivata e con essa anche la rinnovata rassegna estiva del Parco della Musica di Padova nella cornice esclusiva del Parco Europa e del Giardino di Cristallo custodito al suo interno così che dal 29 aprile al 13 agosto la cornice del Parco Europa lo ricordo di Padova in via Venezia zona stanga ospiterà la terza edizione del Parco della Musica iniziative culturali, concerti e festival un'estata quindi indimenticabile con la rassegna musicale e culturale nel cuore di Padova tra i partecipanti lo ricordiamo il calendario deve essere ancora formalmente stilato ci saranno i Wolf Mother, Nada, Ferretti e anche i Philly domani alle 18 negli spazi espositivi del sottopasso della Stua in largo Europa verrà inaugurata la mostra Capelli fotografie di Cristina Colodel curata da Simone Falso l'esposizione si inserisce nel programma di sviluppo del progetto artistico Black & White Veneto curato da Chinocchio, il cinema in movimento e quindi anche l'associazione di promozione sociale Chinima è stata presentata questa mattina la nuova iniziativa presso il centro culturale Altinate San Gaetano Spazio 35 che assume le caratteristiche di un contenitore di iniziative, attività ed eventi e allo stesso tempo di uno spazio fisico delimitato ma costantemente interattivo con il centro culturale e con la città dove i giovani saranno i protagonisti Spazio 35 ospiterà attività riguardanti gli ambiti di lavoro, mobilità internazionale, creatività giovanile, formazione e cultura tutti realizzati e promossi con la partecipazione delle più importanti realtà operanti sul territorio dall'università alle associazioni di categoria, dagli enti al terzo settore per chiudere non c'è due senza tre ed è così che il cinema Esperia di Padova in Via Chiesa Nuova ospita la terza edizione del micro festival la piccola rassegna del cinema veneto a chilometri zero di cosa si tratta? è una manifestazione che avrà il suo epilogo tra il 3 e il 7 di maggio come sempre riservata a lungometraggi girati in Veneto che non abbiano avuto una distribuzione nelle sale cinematografiche anche tra questi i titoli saranno quelli dedicati al pilota Sinossi poi ci sarà un altro docufilm dal titolo 1944 L'Eccidio di Vallarega e ancora La storia dell'orso M4 lo ricordiamo qualche anno fa fu protagonista delle cronache e per chiudere il lungometraggio dal titolo Caigo bene, chiudiamo qui la nostra pagina di informazione grazie per averci seguito e come sempre buona visione dei nostri programmi